Si può parlare di buona fede? Ma sì, nel caso del consigliere Barbisan sicuramente sì, perché ripeto, ha ricevuto il bonus e il giorno dopo l'ha comunque restituito sotto forma di beneficenza alla comunità. Poteva non chiederlo certamente, però nel momento in cui si è reso conto di averlo percepito, l'ha comunque restituito alla comunità e ripeto, sono testimone della sua serietà, onestà e anche grande generosità. È così che il primo cittadino di Treviso prende le difese del capogruppo leghista in consiglio comunale Riccardo Barbisan, al centro della bufera per l'affair bonus IMSS. Al momento la vicenda, pur rientrando nella piena legalità, balza le cronache per la questione morale e si guadagna l'assoluzione dal primo cittadino che l'etichetta come una leggerezza. C'è un aspetto morale di cui dobbiamo assolutamente tener conto. Stiamo vivendo delle difficoltà, una crisi economica importante e soprattutto il mondo della politica deve lanciare dei segnali e degli esempi. Però ripeto, sono contro il giustizialismo, sono contro anche questa volta e conosco le persone, nel caso specifico i tre consiglieri regionali, sono persone assolutamente seri, affidabili e oneste. Hanno fatto una leggerezza e se ne assumeranno le responsabilità. Non la pensa allo stesso modo Niccolò Rocco, che partita IVA dal 2014 non ha chiesto il bonus per questioni di principio. Senza che la legge me lo imponesse ho fatto un ragionamento sul fatto che quei soldi dovessero andare a chi effettivamente da un giorno all'altro fosse passato senza reddito. Il consigliere comunale del PD si appella al senso civico di chi fa politica. Non è né una questione legale né una questione di soldi, è proprio una questione che una classe dirigente deve cogliere il momento storico che sta vivendo, quindi chi aveva reddito garantito deve fare un gesto verso chi non aveva niente. La legge è stata fatta male perché chiunque poteva beneficiarne può darsi, ma, conclude il suo commento, la coerenza dovrebbe arrivare prima della legge.